Tre uomini e due donne sono finite in manette fra Fano, Terre Roveresche, Cartoceto e la Campana Torre Annunziata in una maxi operazione di contrasto allo spaccio di cocaina denominata White Mule. Due persone sono finite in carcere e altre tre agli arresti domiciliari in una operazione di Polizia Giudiziaria, di Guardia di Finanza e Tribunale di Pesaro che ha portato a sette perquisizioni domiciliari e anche al sequestro dei mezzi di trasporto utilizzati dai corrieri in questione, un Audi Q5 e una moto Yamaha T-Max 500. Indagini che si scatenarono dallo scorso 5 ottobre quando al casello autostradale di Fano venne effettuato il controllo di una macchina con a bordo due donne di origini campane e tre minori. La perquisizione del veicolo effettuata attraverso il fiuto del cane Alex dell'unità cinofila di Pesaro aveva consentito di trovare e sequestrare la bellezza di 550 grammi di cocaina, più di mezzo chilo di polvere bianca di cui le donne avevano tentato di disfarsi con un disperato lancio dietro una recinzione. Droga che però fu prontamente recuperata e sequestrata assieme alla macchina così come contestualmente si arrivò alla confisca di tre smartphone. La prosecuzione delle indagini attraverso l'estrapolazione del contenuto del materiale informatico sequestrato ha consentito di delineare il ruolo di cinque persone in totale dedicate allo spaccio di stupefacenti sulla piazza di Fano con staffette di pusher fra la città marchigiana e la campagna. Proprio nella giornata di oggi sono stati formalizzati arresti e misure cautelari.